No, 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 no. Cos'è? Buongiorno. Buongiorno. Yo, Rajah. Yo, Nick. Il marajah sta per sposarsi. Cosa? Questo weekend è nella mia nuova isola privata e voglio che vediate. Ti ricordi che è successo nell'ultima vacanza? Sono morte delle persone? No, dè, tante persone. Per te cinque persone morte sono tante? Ok. Nick e Audrey! Hai mai visto una cosa del genere? Una gift box. Orecchini? iPhone? Con quelle finisci nei guai? Prometti? Colonello! Ma guarda quanto è bello! Ho occhio solamente per lei. E ora è il momento dello sposo. Oh, mio Dio! Non è il marajah. Questo è un diversine. Da cosa? Dalla fuga. Da cosa? Aiuto! Nick! Il marajah è stato rapito. Cosa? E tutti voi siete sospettati. Non verremo mai più invitati da nessuna parte. I David Detecti sono arrivati. Wow. Voi siete gli Spitz? Sì! La vostra reputazione vi precede? Hai visto? Non in senso positivo, purtroppo. Ok. Ok. Consegnate 50 milioni di dollari all'Arc de Trionfa a Parigi. O il marajah muore. Beh, hai sempre desiderato andare a Parigi. Lasci i soldi. D'accordo, subito! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Sparaglia questo! Io non voglio uccidere nessuno! Oh! Cosa? Savant? Oh, mio Dio! Non è quello che avevo previsto! Oh! Ma dov'è arrivato? Il camminerà tra le fiamme? Ci è entrato dritto dentro. Ha preso la valigetta. Oh, mio Dio! Oddio, sono molto confuso. Ring, ring, get to the room. I know you want it. Let me take you back.